Ben trovati sul canale della musica italiana Facebook FTVMI. Il gruppo musicale italiano, Il Volo, è composto da tre giovani cantanti, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobble. Si sono formati nel 2009, quando parteciparono al talent show italiano, Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Durante la loro partecipazione al talent show, Piero, Ignazio e Gianluca hanno fatto una performance insieme, cantando la canzone, O Sole Mio. La loro interpretazione ha attirato l'attenzione del mondo musicale, ottenendo un enorme successo di pubblico e critica. Dopo la partecipazione a Ti lascio una canzone, nel 2010 è uscito il loro primo album omonimo, che ha ottenuto un grande successo in Italia e in molti altri paesi. Nel 2015 il trio, dopo aver vinto il Festival di Sanremo, ha partecipato all'Eurovision Song Contest, rappresentando l'Italia con la canzone, Grande Amore, e ottenendo il terzo posto nella competizione, ma la loro performance ha attirato l'attenzione internazionale e ha consolidato il loro successo in tutto il mondo. Negli anni successivi, il volo, ha continuato a registrare e pubblicare nuovi album, collaborando con artisti internazionali come Barbara Staysand e Placido Domingo. Hanno girato il mondo con numerosi tour, riempiendo stadi e auditorium. Il gruppo ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la loro musica, tra cui Grammy Awards e Latin Grammy Awards. La loro musica è una miscela di pop, opera e canzoni tradizionali italiane, con voci potenti e melodie emozionanti. Negli ultimi anni, il volo, ha continuato a pubblicare album e a intraprendere tour internazionali. Il loro successo è rimasto costante, con un grande seguito di fan di tutte le età in tutto il mondo. La passione che trasmettono attraverso la loro musica e le loro esibizioni dal vivo li hanno resi una delle band italiane più amate e di successo degli ultimi anni. Il volo e Facebook FTVMI ti ringraziano per l'ascolto e la visione. Buona continuazione!